Mister D'Aderi, un 2-2 che dimostra caparbietà e carattere su un campo non semplice. Sì, però sappiamo anche che il Castellano è molto più bravo all'esterno che in casa. Parlano anche i numeri, quindi comunque noi siamo venuti per fare risultato. Poi siamo stati anche da una parte bravi, da una parte fortunati. Sfortunati sull'episodio del rigore, insomma, avrebbe cambiato un po' le cose. Loro avevano speso anche tanto, quindi potevamo spingere un po' di più. Nell'ultima parte noi abbiamo cercato di fare qualcosa in più e poi è venuto il gol, insomma. Però Castelnuovo è una realtà, una squadra organizzata, una squadra che sa quello che fa e quindi certamente ora è un po' rimaneggiata, è un po' appesantita e si conosce. All'inizio era una sorpresa, però ha fatto molto, ma molto bene. Quindi complimenti a tutti quanti. Sono veramente orgoglioso di questi ragazzi, di quello che hanno fatto, proprio perché mancavano da un mese la partita. Tanti problemi con ragazzi col Covid, infortunati, squalificati. Però hanno messo in campo cuore, coraggio, voglia. Rompe le scatole e pareggia una partita che con tanto sacrificio ci eravamo conquistati sul campo. Ancora una volta gli episodi ci vengono a sfavore. Ho detto che non parlo mai degli arbitri perché non è giusto farlo. Devo pensare, non voglio mai dare alibi ai miei ragazzi, però adesso sta diventando un po' una cosa che ogni partita si verifica qualcosa che non ci va per il verso giusto. Però devo solamente fare i complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno fatto vedere oggi sul campo dopo quattro settimane. So come si allenano questi ragazzi, so come lavoriamo, quindi sotto l'aspetto fisico non pensavo che oggi avessimo delle difficoltà. Magari inizialmente dopo un mese le distanze in mezzo al campo, tra i reparti, le cose, poteva essere questo il problema, ma sono stati bravi anche a fare quello. Dispiace essere rimasti in dieci, anche lì per una spallata. Non so che questo è successo, la panchina ho visto così. Allora ti diventa sempre un po' più difficile perché poi oggi, mancando Terrenzio, mancando altri giocatori, avevo levato Santi Rocco, quindi a livello di fisicità alla fine perdevamo qualcosa. Loro buttavano questi palloni in avanti. Inevitabilmente, anche se sono stati bravi i miei ragazzi, più qualche pericolo si correva. Però dispiace perché l'avamo vinta. Quindi adesso, niente, continuiamo. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, continuiamo per la nostra strada e sono convinto che se continueranno a fare così, e su questo non ho dubbi, ci giocheremo le nostre chance fino alla fine.